Io sono un essere vivente, un essere umano, un essere senziente prima, poi viene tutto il resto perché prima di tutto viene l'individuo, la persona in sé come persona. La persona prima di tutto è il pensiero di Marco Guidi, omosessuale residente a Fano, contrario al disegno di legge sull'omotransfobia attualmente in discussione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Dopo il video trasmesso da Fano TV nel mese di giugno si sono scatenate diverse polemiche di chi, al contrario, ritiene necessaria la legge che vede Alessandro Zanno come primo firmatario e che contiene delle modifiche a due articoli del codice penale in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. Nelle scorse settimane era intervenuta sul tema anche la conferenza episcopale italiana preoccupata per la proposta di legge. Secondo la CEI si finirebbe con il colpire l'espressione di una legittima opinione e introdurre nell'ordinamento giuridico un vero e proprio reato di opinione. Secondo me, lo dico da gay convinto, non c'è bisogno sempre di elevarci su un palcoscenico per avere di più perché noi gay non dobbiamo sempre sentirci di meno per avere di più. Noi non siamo delle zebre, del chilimangiaro o degli orsi e degli orali, noi siamo delle persone normalissime. Allora, con le loro esigenze, con i loro problemi, ma non c'è sempre bisogno di sentirsi vittime. A me quello che non mi è mai piaciuto di tutti questi DDL eccetera eccetera è il far sentire gli omosessuali delle vittime. Noi non siamo vittime, noi possiamo essere vittime come tutti gli altri. Ha mai subito bullismo o violenze nella sua vita? Sì sicuramente, quindi è per questo che lo dico, cioè se io faccio del bullismo contro una donna e la donna è la prostituta o contro un ragazzo gay, nel senso per me sono solo il stesso piano, è la stessa cosa. Per Marco infatti non ci sono vuoti normativi, esistono già, ha detto, degli strumenti necessari per garantire tutele agli omosessuali e il rispetto della persona. Mi sento tutelato dall'attuale legislazione italiana e non c'è sempre bisogno di urlare al lupo al lupo. Io se ho degli amici che credono fermamente nella famiglia tradizionale, perché io devo dare loro contro? Non ha senso, questa è un'opinione e sono i loro valori in cui loro credono. Non vedo perché devo demonizzare questa cosa e criticare questa situazione. Per dire no al DDL ZAN è pronta la mobilitazione dell'11 luglio dal titolo Restiamo liberi che si terrà in cento piazze di tutta Italia collegate all'evento principale nella città di Roma. La manifestazione organizzata da Pro Vita e Famiglia è prevista anche alla tensostruttura di Sassonia a Fano in Viale Adriatico a partire dalle ore 21 e 30. Anche lei ne farà parte? Sì sicuramente, voglio esprimere questo mio pensiero. Poi voglio dire agli omosessuali che si coprono e soprattutto agli omosessuali che hanno come me un'ideologia di destra, di non coprirsi perché non è detta che tutti gli omosessuali sono di sinistra, anzi io ne so qualcosa. Secondo lei ne è stata fatta più una discussione politica piuttosto che umana? Sì viene strumentalizzata ovvio, è più una discussione politica è una strumentalizzazione partitica.